Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, buongiorno a chi ci sta ascoltando anche ai docenti e ai dirigenti scolastici e benvenuti a questo nuovo webinar di AIRC, di Fondazione AIRC. Io sono Riccardo Di Deo, sono un nutrizionista, divulgatore scientifico della Fondazione AIRC. Magari ci siamo già visti, abbiamo già affrontato qualche argomento nei vari webinar che vi ho proposto e che vi abbiamo proposto, oggi affronteremo un argomento che è il metabolismo che è legato ad altri webinar che abbiamo fatto, quindi faremo anche qualche riferimento. Allora lasciatemi prima fare un quadro generale sul progetto AIRC Scuola che ci dà la possibilità di offrirvi questi webinar, ma non soltanto, quindi ci saranno una serie di webinar che potete trovare proprio nel sito di AIRC Scuola, ve lo vedete qua, scuola.airc.it, per qualsiasi informazione potete mandarci una mail a info-scuola.airc.it e la prima cosa che vi invito a fare, se non lo avete già fatto, è iscrivervi alla newsletter perché è lo strumento attraverso cui vi potete tenere aggiornati su tutte le varie iniziative, sono davvero tante, abbiamo dei kit didattici multimediali tutti gratuiti su vari argomenti che vanno dalla biologia del cancro alla prevenzione per ogni ordine grado, abbiamo vari contest e progetti diversi come l'isola di Fumosi, Cancro Iotiboccio, facciamo dei workshop di formazione per docenti e poi ci sono i famosi incontri con la ricerca dove mettiamo a disposizione i nostri 5.300 ricercatori per raccontare quello che succede all'interno di un laboratorio di ricerca che per fortuna riusciamo a finanziare con l'aiuto di tutti voi e a rendere, diciamo, il cancro una malattia piano piano nel tempo ma sempre più curabile. Allora possiamo iniziare questo webinar, parleremo del metabolismo, questo affascinante viaggio all'interno del corpo umano che faremo e dico al corpo umano perché ci riferiremo soprattutto a noi come esseri viventi ma che poi possiamo ampliare a tutti gli esseri viventi, lo vedremo con delle analogie molto molto importanti e quello che ho dato come sottotitolo è orientarsi nel laboratorio, nel labirinto metabolico di una cellula. Perché orientarsi? Perché immaginate voi siete classi che vanno dal primo superiore al quinto superiore quindi io darò degli strumenti essenziali e fondamentali per poi andare a capire quello che potrete studiare voi nei vostri libri in tutti i processi e le formule chimiche che dovrete affrontare. Però sarà una visione molto ampia proprio per darvi un approccio di comprensione generale dell'importanza che ha studiare e capire questi questi meccanismi perché si servono a ruolo fisiologico quindi a come noi funzioniamo ma poi ci danno tutte le informazioni per capire anche come intervenire dal punto di vista delle patologie quando insorgono delle malattie e capire i processi metabolici ci serve proprio a questo fine. Quindi il campo di applicazione non è chiaramente soltanto lo studio fino a se stesso ma poi si apre a un mondo molto vasto e partiamo da noi. Uomo, donna che sia, quello che è importante per vivere e che ci sia della materia per costruirci siamo fatti da cellule e da componenti che scopriremo e chiaramente di energia perché siamo delle macchine che devono funzionare in un certo modo allora ci chiediamo che cosa ci serve per ottenere materia e energia e che costo paghiamo per utilizzare questa materia e energia e restituiamo l'ambiente no? Perché considerate che siamo viviamo in un ambiente che ci circonda e che interagisce con noi e noi interagiamo con lui e quindi in un certo senso è fondamentale che ci sia un rispetto di tutto questo ma anche comprendere quanto sia importante la relazione che si instaura. Allora chiaramente che cosa ci dà materia e energia? Noi respiriamo principalmente ossigeno e mangiamo, ci nutriamo attraverso gli alimenti quindi gli alimenti sono la forma principale con cui noi diciamo prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per costruire tutto ciò che ci serve per ricavare energia e l'ossigeno vedremo è un protagonista fondamentale che ci servirà in tutti i processi metabolici del nostro organismo. Il prezzo da pagare qual è? Che chiaramente gli alimenti sapete benissimo che poi nel processo di digestione assorbimento hanno del materiale di scarto ma se noi andiamo a un livello interno quindi metabolico vediamo che essenzialmente quello che restituiamo è acqua, anidride carbonica e altri materiali di scarto derivanti magari dal processi metabolici di altre sostanze no? E adesso andremo un pochino all'interno per cercare di capire come funzionano. Tutto questo viene studiato da quella disciplina che si chiama biochimica che insieme alla genetica, alla biologia molecolare sono delle scienze che praticamente negli ultimi cento anni ma anche meno si sono sviluppate enormemente e ci hanno dato la possibilità proprio di comprendere come funzioniamo a vari livelli. Chiaramente la biochimica è la chimica della vita quindi ahimè bisognerà conoscere un po' di chimica perché tutte le formule che studierete io cercherò di citare quantomeno nomi possibili perché abbiamo soltanto un'oretta chiaramente e poi l'approccio di questa chimica ha un sistema biologico che nel nostro caso chiaramente anzi nel caso di tutti gli esseri viventi è la cellula. Partiamo da che cosa mangiamo cioè dalle molecole fondamentali che costituiscono noi ma tutti gli esseri viventi. Tolti gli acidi nucleici che saprete benissimo sono il materiale che ci serve per trasferire le informazioni no? E non solo vedremo e sono di base l'RNA e il DNA però quello che noi attraverso l'alimentazione otteniamo sono tre grandi gruppi di molecole, i carboidrati, i lipidi o grassi e le proteine. È importante capire come sono strutturati perché poi facendo il processo opposto cercheremo di capire che cosa noi utilizziamo di queste no? Sono strutturati in unità, in singole unità che si chiamano monomeri, sono una unità che per i carboidrati sono i monosaccaridi, pensato al glucosio, sarà il protagonista in un certo senso della nostra chiacchierata, gli acidi grassi, varie tipologie di acidi grassi e gli aminoacidi che sono i mattoncini delle proteine e poi nucleotidi chiaramente sono i mattoncini degli acini nucleici. Questi si associano, polimerizzano, polimerizzando formano appunto dei polimeri che nel caso dei carboidrati sono polisaccaridi, vi immaginerete qual è il polisaccaridi di eccellenza della nostra dieta che si trova nelle piante che è l'amido, i trigliceridi sono essenzialmente questa composizione di tre acidi grassi, gli aminoacidi lo sapete benissimo si compongono in proteine e gli acidi nucleici come vi ho detto DNA, RNA eccetera eccetera. Le proteine svolgono tantissime funzioni strutturali di trasporto, gli enzimi, ne parleremo, sono fondamentali perché catalizzano, cioè velocizzano, rendono possibile qualsiasi reazione chimica, gli acidi grassi si condensano in trigliceridi e poi vengono stoccati ahimè nelle cellule dipose che formano il grasso, il tessuto adiposo corporeo, ma questo è fondamentale per capire perché noi a un certo punto quando mangiamo queste biomolecole le trasformiamo e per andare a capire il metabolismo, cioè poi andare a vedere a livello molecolare e cellulare quello che succede, dobbiamo però capire il contesto generale e da qui parliamo e da qui torneremo alla fine del nostro webinar per capire poi come mangiare meglio in un certo senso, cioè cercare di alimentarci per rendere disponibili nelle giuste quantità, nelle giuste tipologie quello di cui abbiamo bisogno. Questo è l'apparato digerente fatto non solo di organi specifici e deputati alla digestione e l'assorbimento, si parte da insomma dalla bocca, si passa per lo stomaco fino all'intestino tenue e crasso, ma con delle ghiandole accessorie, accessorie significa che sono fondamentali per il funzionamento il fegato, il pancreas e anche le ghiandole salivari nella bocca. Allora, concettualmente che cosa ci interessa sapere adesso? Che noi mangiamo delle sostanze, degli alimenti con delle molecole all'interno più o meno complesse. L'obiettivo della digestione è arrivare all'intestino e averli scissi, averli ridotti nelle dimensioni quanto più possibili piccole. Una volta fatto questo, quello che poi ci servirà è assorbirle e all'interno della cellula possiamo ancora un po' maneggiarle, pensate ai carboidrati, i grassi e alle proteine, e poi una volta che sono pronti le inviamo nel sangue. Il sangue sarà la nostra autostrada che porterà in circolo tutti i nutrienti alle varie cellule che ne hanno bisogno e a quel punto entra in campo tutto il discorso del processo del metabolismo a livello proprio molecolare, no? Quiz. Noi faremo un sacco di interazione, almeno ci proviamo. Se volete fare delle domande, per quanto mi sia possibile, in base alle conoscenze che ho, cercherò di darvi delle risposte, però vi farò anch'io delle domande, così vediamo anche voi quante conoscenze avete, anche perché siete, come vi ho detto, molto eterogenei come gruppi di classi e anche perché è stimolante, perché aiuta l'apprendimento a ragionare. Partiamo proprio dal ragionare su che cosa è il metabolismo cellulare. Allora vi do diverse opzioni, poi lanceremo il sondaggio e voi potete dare la risposta. Il metabolismo cellulare è l'insieme di tutte le reazioni anaboliche della cellula, l'insieme di tutte le reazioni chimiche della cellula, l'insieme di tutte le reazioni cataboliche della cellula, nessuna delle precedenti. Può partire il sondaggio? Qualche secondo per rispondere e poi chiudiamo il sondaggio quando abbiamo una buona quantità di risposte per vedere che cosa ci avete detto. Benissimo, oh scusate, è arrivato lo spoiler da parte mia, perdonatemi, magari qualcuno non l'ha visto perché era intento a rispondere, quindi vediamo un po' che cosa avete risposto. Questo era semplice, immagino che sapendo un, vediamo un po', potete condividere i risultati. Ok, allora io non vedo i risultati condivisi, ma mi immagino voi li vediate. Comunque adesso cerco di ottenere i risultati del sondaggio in chat. Allora il 70% di voi ha detto chimiche e quindi la risposta, scusate, esatta, è esattamente questa, l'insieme di tutte le reazioni chimiche della cellula, cioè non è l'insieme delle reazioni cataboliche della cellula, non è l'insieme delle reazioni anaboliche della cellula, ma è l'insieme di tutte le reazioni chimiche che avvengono nella cellula, quindi tutto quello che avviene all'interno di una cellula noi possiamo considerarlo metabolismo cellulare. Scusate, qui è scorretta la risposta, la risposta giusta è l'insieme di tutte le reazioni chimiche nella cellula. E' bravissimo, perché il 70% di voi ha risposto correttamente. Allora andiamo a vedere un po' che cosa succede all'interno di una cellula. Ecco, questo è proprio il motivo per cui l'ho chiamato labirinto, perché nel corso degli anni i biochimici, gli studiosi ci hanno tirato fuori praticamente quello che è una mappa enorme di tutte le reazioni che avvengono all'interno della cellula. Questo è il metabolismo, cioè guardate che complessità. Ora, non voglio spaventarvi perché noi guarderemo solo alcuni aspetti e lo guarderemo dall'alto tutta questa mappa, guarderemo delle vie centrali, le vie principali del nostro metabolismo, ma immaginatevi che associate a quelli che sono i metabolismo del glucosio, quindi dei carboidrati, delle proteine e dei grassi, ci sono tutti i metabolismo legati alle vitamine, agli ormoni, cioè tutta una serie di sostanze che nel complesso, qui da tutta la panoramica degli esseri viventi, dà proprio un senso di smarrimento e pensate che ogni reazione nasconde degli studi da parte degli scienziati e quindi capite che grandissimo lavoro poi l'insieme è stato fatto. Che cosa ci interessa sapere? Ci interessa sapere che ci sono alcune vie principali che convergono tutte verso il centro del nostro metabolismo, cioè ci sono delle vie alternative delle vie secondarie, ma le vie centrali convergono e questo lo vedremo proprio in una parte, quindi dove è lo snodo centrale di tutto quello che succede, quindi se lo immaginassimo come una strada quel punto rappresenta la piazza centrale della città, se questa fosse una mappa della città. Allora, che cosa dobbiamo sapere? Adesso vi do una serie di strumenti e questa è la cosa fondamentale che secondo me è una delle cose fondamentali di questo webinar, cioè io vi darò degli strumenti per capire poi come andare a studiare quando dovrete affrontare o lo avete già fatto e quindi ripassare e rivedere tutto il mondo delle varie vie metaboliche, perché nei libri di scuola, nei libri di testo chiaramente sono poi declinate reazione per reazione. E allora quali sono i concetti fondamentali? Il primo, se prima vi chiedevo che cos'è il metabolismo, ho accennato a catabolismo e anabolismo. Sono due facce, se pensiamo al metabolismo come una medaglia, due facce della medaglia. Le vie cataboliche, il catabolismo, è quello che proprio parte, come abbiamo visto, dalle molecole più grandi, quindi polimeri, e piano piano le degrada, cioè quindi è un processo degradativo. Mentre lo faccio, una informazione fondamentale, è che ottengo energia e quindi questo è il primo senso e quindi ottengo energia che vedremo come viene poi immagazzinata questa tipologia di energia e quindi è un processo degradativo. Catabolismo, processo degradativo delle sostanze per ottenere energia. Anabolismo è il processo opposto. Chiaramente io quando ho delle molecole di partenza, delle molecole semplici, io poi ho bisogno di strutturare per varie ragioni, pensate al grasso per il deposito, partendo dagli acidi grassi, pensate alla sostanza di riserva del glucosio che poi scopriremo, pensate alle proteine, siamo fatti di proteine, è fondamentale che poi i mattoncini li riassembli, i mattoncini che sono gli aminoacidi, li riassembliamo per quello che ci serve, no? E quindi questo si chiama anabolismo, cioè un processo sintetico e questo invece non spende energia ma addirittura richiede energia e quindi è importantissimo avere energia a disposizione per fare questi processi essenziali per la vita. Una cosa fondamentale, non vi immaginate questi due risvolti della medaglia come un qualcosa che è l'esatto inverso, perché per ragioni sensate, e qui vi do un'informazione, la natura, l'evoluzione, il processo evolutivo non ragiona per convenienza, no? Quindi tutto quello che viene creato e si struttura nei secoli, nei millenni, dal punto di vista evolutivo, chiaramente viene fatto con un senso, se ha senso si mantiene, se non ha senso non viene mantenuto e quindi una cosa importante è cercare di avere una precauzione nel non mischiare troppo le cose perché magari è utile delle volte immagazzinare ad esempio energia, delle volte invece siamo in delle condizioni che dobbiamo sfruttare quell'energia e se fossero inversi si creano dei problemi, no? E quindi devono essere separati. Come vengono gestiti tutte queste queste separazioni delle vie metaboliche, no? Non tutte, alcune sono esattamente l'opposto. Vengono gestiti attraverso gli enzimi che possono, in base a vari aspetti, la conformazione, il pH della cellula, eccetera, la struttura, possono far andare in una direzione o in un'altra una reazione metabolica, possono essere regolati da ormoni, possono essere regolati semplicemente dal fatto che sono strutturati e compartimentati in parti della cellula differenti, così non si danno fastidio ad un'altra, no? Le varie vie di cui abbiamo bisogno che funzioni in un determinato momento. Allora, l'energia è la chiave e alla fine, come vedete qua, richiamano un po' le molecole che vi dicevo. Alla fine quello che si cede è acqua, anidride carbonica, qui vedete anche la N che sta per l'azoto, perché ad esempio le proteine contengono azoto e quindi viene buttato fuori, insomma, come materiale di scarto. Altro quiz, quale? Visto che abbiamo parlato di energia, quale fra queste molecole è la principale fonte di energia delle cellule? DNA, RNA, ATP, NAD. Può partire il sondaggio? Vediamo un po' se il sondaggio sta partendo. Vediamo un po'. Dalla regia, vediamo se sta... mi date un segno che il sondaggio è partito? Oppure in chat, se qualcuno vuol scrivermi, se il sondaggio è partito oppure no. Sì, sì, è partito il sondaggio. Perfetto, scusate, non avevo il... sta andando il sondaggio benissimo. Perfetto. Allora, vi do qualche ancora qualche secondo, tanto sappiamo benissimo che la risposta è abbastanza immediata, immagino che molti di voi la sanno, però già mi dà un'idea di chi la sa, vuol dire probabilmente perché ha già studiato queste informazioni, chi non la sa invece devo andare ancora più un attimo a spiegare anche quale sarà questa molecola e che senso ha. Perfetto, per me può essere chiuso il sondaggio, vediamo se arrivano i risultati a brevissimo. Attendiamo un secondo per i risultati. Eccoli qua. Allora, lo sapevo, il 96% di voi ha risposto ATP. Vi faccio i complimenti perché soltanto l'1-2% di voi ha risposto DNA, RNA, NAD+, e quindi siete stati bravissimi. Molti di voi sanno che, appunto, l'ATP è la molecola che trasporta, in un certo senso, l'energia negli esseri viventi, cioè l'ATP nasconde nei suoi legami posforici l'energia che ci serve per svolgere lavoro, quindi tutte le azioni che abbiamo bisogno a livello cellulare, ad esempio per le reazioni anaboliche di cui parlavamo prima. È molto semplice, cioè si tratta di una reazione di idrolisi, quindi con successivo in presenza di acqua si rilascia un gruppo fosfato, si forma adenosine di fosfato invece che adenosine di fosfato e quindi quello che succede è che abbiamo liberato energia, quindi l'obiettivo sarà formare, nelle varie vie metaboliche che vedremo, sarà formare questo ATP. L'obiettivo metabolico che studieremo sarà proprio cercare di formarlo. Un altro strumento, oltre che sapere che ci sono reazioni anaboliche e cataboliche, l'utilizzo di energia, qual è l'energia, è che il metabolismo funziona grazie a reazioni di ossidoriduzione. Anche queste, quindi vedete richiami continui alla chimica per applicarli al mondo biologico, che cosa sono le reazioni di ossidoriduzione? Guardate che questi veramente sono gli strumenti che se voi capite bene avete tutti i mezzi poi per andare a capire fino in fondo i vari processi, le varie vie metaboliche. Ve li leggo, sono reazioni in cui una molecola diventa più piccola, sono reazioni in cui una molecola diventa color ruggine, sono reazioni in cui vengono eliminati gli elettroni, sono reazioni in cui una molecola cede elettroni e un'altra li acquista. Prego può essere lanciato il sondaggio, ancora qua qualche secondo, vedete stiamo facendo una sorta di preriscaldamento, ma veramente è fondamentale capire questi aspetti perché poi vi sembrerà tutto più semplice anche nella comprensione generale, il senso che c'è dietro le varie vie metaboliche che andate a studiare. Alcune sono simpatiche come risposte, vediamo un po' anche qua sulle ossidoriduzioni. Vi darò poi due indicazioni sulle ossidoriduzioni o magari le avete sentite anche nominare come reazioni redox. E già questo è un aiuto e suggerimento che vi do. Vediamo un po', ancora qualche secondo per la risposta. Perfetto, intanto monitoro la chat dove mi arrivano tutte le vostre informazioni, sia che siano domande sia le vostre risposte chiaramente. Ok, perfetto, possiamo chiudere il sondaggio e vedere un po' le risposte. Eccole qua. Allora, anche qua sono reazioni in cui una molecola cede elettroni e l'altra li acquista. 91% di voi, questa sapevo che era un pochino più difficile, ma avete il polso della situazione. Quindi ottimo. Giusto per ricordare a quel 10% che magari non ha ben chiaro che cosa succede, succede che c'è un passaggio di elettroni. Un passaggio di elettroni fra un composto, un composto riducente perché cede questi elettroni o protoni e protoni, e cede questi protoni e è una reazione accoppiata perché c'è sempre un composto che poi li acquistano e acquistandoli che cosa fa? Si riduce. Quindi automaticamente il composto che prima era quello riducente si è ossidato e il composto che era ossidato si è ridotto. Qual è il senso del metabolismo? Il senso del metabolismo è fare tutta questa serie di reazioni, cioè andare a ossidare i substrati, substrati sono glucosio eccetera eccetera, ossidandoli noi che cosa facciamo? C'è un passaggio di elettroni e ci deve essere sempre qualcuno disposto ad accogliere questi elettroni che poi diventa una sorta di potere riducente. È un prezzo da pagare, un prezzo da pagare che poi dobbiamo restituire, restituire perché se no si blocca tutto il processo. Quindi è fondamentale avere chiaro questo passaggio di elettroni che corrisponde anche al passaggio di energia, cioè perché quelle che subiscono una riduzione acquistano e ricevono l'energia. Quindi immaginatevi questo processo di ossidazione dei substrati che piano piano passa anche oltre elettroni energia. Chiaramente questo processo deve essere graduale perché pensate a una macchina, piano piano questa energia deve essere rilasciata nel tempo. Se io il combustibile, penso alla benzina ad esempio, lo bruciassi in un istante, cioè do fuoco e faccio esplodere tutto il meccanismo, lo spostamento di energia è molto minore rispetto a che se è progressivo riesco a fare tutti i miei chilometri. Ecco il processo con questa analogia è lo stesso. Allora quali sono i trasportatori? Quelli che un po' si sacrificano in certo senso e prendono tutto quello che è stato rilasciato dai substrati e poi in seconda battuta vedremo che vanno a trasferirli per produrre il nostro obiettivo che è l'ATP. E sono dei composti che possiamo chiamare in forma ridotta NADH, FADH, senza andare nel dettaglio dei nomi, li studierete, qui comunque ci sono scritti, forniscono quindi potere riducente, cioè questa è la cosa fondamentale. Una volta che loro si riducono e acquistano gli elettroni, quindi hanno tolto degli elettroni dai substrati e piano piano vedremo che devono essere poi restituiti in battuta finale e lo vedremo con il processo del glucosio. Ultima cosa, informazione fondamentale, perché abbiamo visto gli strumenti. Gli strumenti sono capire chi è l'energia, capire chi sono i trasportatori degli elettroni, capire come funziona il passaggio chimico che è attraverso le reazioni di ossido riduzione, capire che tutto avviene grazie a degli enzimi che catalizzano le reazioni e capire poi quali sono gli agenti principali che sono le molecole della vita in un certo senso. Quali sono le funzioni? Una volta detto questo vi farò vedere un esempio di passaggio di via metabolica fondamentale alla vita praticamente di tutti gli esseri viventi in modi diversi. Funzioni, fornire l'energia del metabolismo, fornire materia, assicurare il ricambio molecolare tutte le precedenti. Può partire il sondaggio? Anche qua le domande capite bene che sono sì un modo per mettervi un attimo alla prova su cose semplici e basilari perché chiaramente non posso fare domande troppo complesse ma sono lo strumento attraverso il quale noi fissiamo dei punti, dei punti essenziali da capire che poi vi serviranno per andare avanti nel vostro percorso di studi nell'ambito del metabolismo. Alla fine poi di tutta la valutazione cercheremo anche di vedere che cosa significa rifornire di alimenti il nostro organismo e in che modo possiamo fornirli perché io da nutrizionista sì ho interesse allo sguardo metabolico ma ho interesse a mandarvi dei messaggi che riguardano la sana alimentazione affinché lo abbiamo detto prima questi processi metabolici avvengano correttamente e non si instaurino dei meccanismi dove si possono poi produrre nel tempo o procurare nel tempo dei processi che portano a delle malattie. Ci sono moltissimi esempi, molti purtroppo sono dovuti ad aspetti legati alla genetica però molti altri patologie penso alle patologie cronico degenerative penso al diabete cardiovascolari tumori anche possono essere associate a delle condizioni che vanno anche a causare delle problematiche a livello del metabolismo ma soprattutto possono essere studiate proprio dallo studio dell'approccio biochimico di questo di questo mondo della biologia. Allora vediamo un po' di ottenere le risposte io credo che anche qua sarete stati bravissimi anche perché le abbiamo un po' accennati tutti tutti questi aspetti funzioni del metabolismo ancora qualche secondo per rispondere arrivano le risposte allora è invece qua 32 per cento di voi è stato ingannato è stato tratto in inganno perché il 32 per cento mi dice fornire energia che è giusto quello che dice ma ha tralasciato gli altri aspetti fondamentali fornire materia e assicurare il ricambio molecolare della materia avevamo parlato avevamo parlato all'inizio bravissimi 65 per cento di voi che ha detto tutte le precedenti per carità ci mancherebbe altro che non è un problema è soltanto per adesso ragionare no quindi evidentemente devo chiarire ancora di più il fatto che si serve per fornire energia però abbiamo detto che il processo le funzioni del metabolismo sono anche fornire tutti quei quei mattoncini in un certo senso che servono per costruire le nostre cellule e quello che cos'è è materia è sostanza sostanza organica che che dobbiamo utilizzare pensate alle proteine le proteine è la cosa più semplice che vi può venire in mente le proteine noi le digeriamo ricaviamo gli aminoacidi e poi le riassembliamo come vogliamo per per produrre come dire tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno tra l'altro anche gli enzimi che servono proprio a far funzionare il processo metabolico assicurare il ricambio molecolare che significa significa che noi quando nasciamo cresciamo chiaramente aggiungiamo componenti sviluppiamo componenti organi cellule eccetera però la cosa fondamentale è che noi non siamo identici proprio dal punto di vista della composizione corporea cellulare molecolare da quando nasciamo quando poi moriamo cioè noi abbiamo un ricambio molto veloce per alcune tipologie di cellule penso quelle dell'intestino l'intestino è fatto da delle cellule che si chiamano villi intestinali e questi villi intestinali immaginatevi quanto lavorano quanto devono lavorare è chiaramente è importante che si usura tutto il materiale quindi è importante che per evitare proprio il danneggiamento e magari anche l'innesco in lungo con vari processi di conversione di qualche danno molecolare a livello del dna in cellule tumorali è importante che ci sia quello che viene definito turnover no un ricambio e questo viene assicurato da tutto quello che ci dà il metabolismo sia dal punto di vista di sostanze sia dal punto di vista energetico quindi la risposta era tutto il tutto il tutte le precedenti e arriviamo alla parte fondamentale quella mappa che abbiamo visto prima quel labirinto adesso iniziamo a guardarlo un pochino con degli occhi un po più consapevoli no però eliminiamo tutto quello che ad oggi in questo momento in questa oretta non ci interessa e vediamo quello che ci interessa cioè le principali vie metaboliche e quali sono ripartendo e ripercorrendo ripartiamo dalle nostre biomolecole carboidrati proteine lipidi che cosa possono fare che possono fare un processo di sintesi anabolica quindi scusate questo qua anabolismo oppure catabolismo degradazione e degradandoli chiaramente io arrivo a ottenere ottenere le unità fondamentali che sono gli acidi grassi glucosio e gli aminoacidi a questo punto però io per ottenere energia e per ossidarli perché questa è la parola chiave completamente o anche parzialmente è opportuno che metta in campo tutta una serie di vie metaboliche e sono queste proprio quelle centrali che riguardano il glucosio noi daremo uno sguardo veloce alla glicolisi che è la forma praticamente di metalli del metabolismo e di ricavo dell'energia più ancestrale più antica che esiste cioè la prima forma primordiale di ottenimento dell'energia miliardi di anni fa da parte delle prime forme di esseri viventi quindi batteri eccetera e quindi riguarda il glucosio poi però vedete si arriva a un certo punto dove l'acetilconsima A che vedremo si ottiene tramite il piruvato ma a sua volta è l'anello di congiunzione di tutti i nutrienti non micro di tutti i monomeri diciamo e di tutti i nutrienti perché tutto qua si condensa in questo ciclo bellissimo che già vi svelo il nome si chiama ciclo di Krebs in onore del ricercatore che negli anni 40 del 1940 se non sbaglio ha iniziato a studiare e per cui nel nel 53 ha vinto un Nobel ha vinto un Nobel grazie alla scoperta di questo ciclo ciclo di Krebs o dell'acido citrico lo vedremo un po' nel dettaglio come vedete poi ci sono anche gli acidi grassi dove può esserci chiaramente la demolizione degli acidi grassi la sintesi dei trigliceridi e poi la riconversione e allo stoccaggio scusate in grasso corporeo però io posso anche sintetizzare gli acidi grassi e posso oppure demolirli attraverso un processo catabolico che si chiama beta ossidazione vi faccio notare un aspetto non avviene tutto a caso e questo l'abbiamo citato avviene compartimentato una parte di glicolisi la glicolisi avviene nel citoplasma qui abbiamo il mitocondrio mitocondri che sono le centrali energetiche delle cellule e nel mitocondrio ad esempio avviene il catabolismo degli acidi grassi e poi vedete che anche il ciclo di Krebs avviene proprio nel nel mitocondrio e questa ultima fase quindi noi adesso guarderemo questa fase qua tutto quello che riguarda da parte partendo dal glucosio e arrivando al l'ossidazione diciamo finale l'accettore ultimo che è l'ossigeno come vi dicevo prima con la produzione poi di acqua e che avviene appunto nel nel mitocondrio in particolare sulle membra sulla membrana interna del mitocondrio che ha questa struttura interna all'interno c'è la matrice all'esterno ci sono due membrane una esterna un'interna dove c'è tutto un complesso di enzimi molto strutturato di complessi proteici che lavorano proprio a questo fine estrarre energia estrarre energia quanto più possibile e quindi ottenere energia tramite una catena di trasporto degli elettroni e poi con l'ultimo strumento che è una pompa diciamo che che produce ATP che è la nostra energia fondamentale quindi il messaggio qua oltre a una visione singola delle varie mie vie metaboliche vedete poi come tutte si intrecciano in un modo e nell'altro per cercare di creare un'utilità nel momento del bisogno pensate ad esempio se io non ho più glucosio perché non sto mangiando pensate se sono in una fase di digiuno ma il glucosio essenziale per la vita e quindi ci sarà bisogno che qualcuno corra in soccorso per rifornire questo glucosio e quindi è tutto intrecciato e sarà affascinante secondo me per voi una volta che avete chiaro questo meccanismo andare a scoprire quali sono le modalità che le nostre cellule nel corso dell'evoluzione hanno messo in campo per per come dire per sopperire a tutte le esigenze che di cui abbiamo abbiamo bisogno chiaramente concepito un aspetto che mettete nell'ottica del processo evolutivo tutto quello che avviene è conveniente viene mantenuto cioè quello che è utile all'organismo viene mantenuto nel tempo perché proprio si struttura in questo senso qua è utile sia dal punto di vista della resa che dal punto di vista del modo in cui ci porta dei benefici no e allora andiamo a vedere il processo di glicolisi quindi entriamo all'interno di questa mappa del metabolismo e vedremo una delle vie più importanti parliamo di glucosio perché dal glucosio dobbiamo partire no e dal glucosio siamo arrivati però ricordatevi che non è che prendiamo glucosio così a caso ma lo prendiamo da fonti di alimenti oppure lo possiamo sintetizzare se ne abbiamo bisogno quale tra queste informazioni sul glucosio è falsa ne abbiamo una riserva limitata nel fegato nei muscoli questa già vi dico un po più difficile come domanda è contenuta nei cereali e derivati come pasta pane eccetera non viene utilizzato come fonte di energia dal cervello è presente in circolo nel sangue vi al sondaggio prendetevi qualche secondo per riflettere non date la risposta a caso perché qui se ci pensate un attimo secondo me la risposta la trovate nel tutte le vostre conoscenze che avete a disposizione ancora qualche secondo credo che possiamo quasi lanciare il sondaggio possiamo vedere i risultati fra pochissimo vediamo un po qui sono veramente curioso di vedere che cosa avete detto ecco infatti mi aspettavo che le risposte fossero un po più eterogenee fra voi il 18 per cento di voi dalla risposta a ne abbiamo una riserva limitata io vi credo quale era falsa la risposta no pensa che sia falsa non ne abbiamo una riserva limitata nel fegato nei muscoli è contenuto nei cereali e derivati il 17 per cento di voi non viene utilizzato come fonte di energia dal cervello il 55 per cento di voi quindi la maggior parte di voi da questa risposta qua è presente in circolo nel sangue il 10 per cento di voi come al solito la maggior parte di voi ha dato la risposta esatta non viene utilizzato come fonte di energia dal cervello anzi vi dirò di più il cervello è un organo glucosio dipendente cioè è un organo che funziona quasi esclusivamente quasi perché in realtà funziona anche con i corpi ketonici che sono lo scarto del processo della beta ossidazione degli acidi grassi ma quasi esclusivamente utilizza glucosio e quindi è fondamentale avere glucosio sempre a disposizione perché se no le nostre connessioni neuronali non funzionano i nostri neuroni che sono le cellule del sistema nervoso non funzionano e quindi chiaramente andiamo in poco tempo incontro a coma e ancor peggio morte le altre invece sono tutte vere è contenuto nei cereali e derivati sì sotto forma di amido l'amido è una catena lunghissima anche ramificata di glucosio e quindi la nostra fonte principale di glucosio una volta che l'abbiamo digerito è proprio i carboidrati le fonti di carboidrati complessi in realtà è contenuto anche nella frutta sotto forma di zucchero o glucosio singolo si ottiene a partire dal fruttosio quindi insomma è un nutriente che otteniamo molto semplicemente dalla dieta ne abbiamo una riserva limitata nel piegato nei muscoli assolutamente sì come le piante lo stoccano lo riservano sotto forma di amido noi lo stocchiamo sotto forma di glicogeno e glicogeno però si esaurisce velocemente cioè non è la nostra riserva vera di energia immaginatevi qual è la riserva di energia ovviamente sono è il tessuto adiposo quella consistente quella che purtroppo può aumentare se quasi senza limiti no il grasso aumenta 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 e invece questo qua il glicogeno può essere liberato può essere tagliato il glicogeno immaginatevi lunga catena di glucosio viene tagliato da degli enzimi e rilasciato nel sangue e poi è in circolo nel sangue assolutamente sì è la famosa glicemia no glicemia che è uno dei parametri omeostatici cioè che deve essere tenuto bilanciato se no rischiamo se è troppo o troppo poco di andare incontro a dei problemi allora la glicodisi essenzialmente che cos'è avviene in una prima fase dove da glucosio attraverso dieci reazioni viene trasformato in piruvato prima informazione da glucosio sei molecole di carbonio a piruvato due molecole di carbonio in realtà due molecole di piruvato quindi sono quattro in totale significa che due molecole di carbonio le abbiamo le abbiamo in un certo senso staccate no e poi che cosa fa a una fase di investimento energetico cioè quindi addirittura qui nella prima fase di reazioni dove qua poi si si sdoppia il glucosio in in due molecole si scinde in due molecole a tre atomi di carbonio in questa prima fase utilizza atp quindi è importante che ci sia energia ma poi in questa seconda fase produce quattro molecole di atp quindi la produzione di energia è relativamente poca il la resa totale è soltanto due atp vedremo che in tutto il processo il numero di atp che si forma quindi di energia disponibile è molto superiore che prezzo a questa formazione cioè io vado a ossidare il il substrato e il nad recupera gli elettroni chiaramente sono due due elettroni due protoni e quindi si formano due molecole di nad h che cosa serve a che cosa serve questa fase chiaramente serve perché oltre a produrre energia produce anche materia cioè qui avremo la formazione di zuccheri pentosi a cinque atomi di carbonio e qui iniziate a fare tutti i collegamenti mentali vedete che appunto servono come base degli acidi nucleici no sì scusate mi corrego ho detto molecole di carbonio atomi di carbonio perdonatemi ho sbagliato e quindi tutta una serie di sostanze di partenza il glicerolo che cos'è è quell'anello che lega i tre acidi grassi e li lega per formare i tre gliceridi quindi vedete che il senso non è soltanto materia e quindi iniziate a guardare sempre con questi occhi quanta energia ottengo ma che cosa produco in termini di materiale per la cellula e poi l'ultimo aspetto che vi dovete ricordare che vi ho detto proprio ve li ho evidenziati per farvi ragionare in questo senso l'ultimo aspetto è ci sarà una regolazione la regolazione è attraverso l'ATP e l'ADP cioè man mano che aumenta l'energia questo processo si rallenta e viceversa chi lo decide lo decide l'ATP chiaramente poi andrete a vedere che è declinato sul fatto che c'è un enzima fosfo frutto chinasi si chiama centrale che è un enzima all'osterico cioè che ha due sedi che se da una parte c'è l'ATP o troppo ATP si legano e quindi cambia conformazione in base a quello decide l'andamento di questo processo è un processo ritorniamo a monte di tutto quello che vi ho detto che succede senza presenza di ossigeno e ricordatevelo andiamo avanti questo piruvato che si forma se voi vi ricordate quello che abbiamo visto prima dal citoplasma passa nei mitocondri e nei mitocondri chiaramente è un processo che dove è necessario ossigeno perché l'ossigeno vedremo sarà l'accettore finale degli elettroni no e quindi che cosa accade accade che questa molecola di piruvato si trasforma in acetilcoenzima attraverso un processo di decarboossilazione ossidativa significa che perde un atomo di carbonio ricordatevi sempre di ragionare per due perché abbiamo due molecole di piruvato e quindi due molecole di acetilcoenzima e praticamente ossidativa quindi ancora una volta si formano due molecole di NADH alla fine cercheremo di capire la resa finale di tutto questo processo e qui è un ciclo un'altra informazione scusate che non vi ho detto fondamentale è che non è che avviene tutto in maniera lineare cioè le conformazioni dei processi metabolici possono essere circolari possono essere lineari eccetera quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione si condensa con questa molecola che è l'ossalacetato e condensandosi è il primo risultato il primo prodotto che è il citrato e da qui ciclo dell'acido citrico e inizia a fare il suo ciclo no allora la cosa che vi ho detto che l'acetilcoenzima è il punto di convergenza dei nutrienti questa è la cosa più importante quindi abbiamo un mondo che si unisce anzi tre mondi diversi che si che cosa produce noi ragioniamo senza vedere nel dettaglio l'obiettivo qual è estrarre la maggior parte di ATP e ragionate poi su quanto ATP troveremo alla fine e rigenerare poi alla fine gli accettori di elettroni in un certo senso che cosa succede vanno eliminate questa è una molecola sei atomi di carbonio il citrato vengono perse quindi attraverso un processo di decarbossilazione ossidativa vengono perse due molecole di co2 e si torna all'ossalacetato che ha quattro atomi di carbonio e tutto questo processo produce molto potere riducente cioè produce tre per due quindi sei molecole di NADH una di FADH2 che l'avevamo visto prima e poi produce soltanto e qui vi stupirete come soltanto una molecola di ATP che in realtà sono due molecole di ATP tramite la trasformazione del GTP ma poco ci interessa questo il senso è che qui abbiamo un trasferimento netto di due elettroni due protoni dall'acetilcoenzima condensato con l'assalacetato ha fatto tutto il giro e voi direte sì ma qui ancora ne abbiamo ancora la stessa cosa della glicolisi come quantità di ATP me ne aspettavo molta di più e infatti non finisce qua perché poi andiamo abbiamo visto prima a fare quello che è il processo di respirazione che parte qua in un certo senso il processo di respirazione cellulare quindi immaginatevi respirazione lo stesso processo di prendere ossigeno e buttare fuori aniridre carbonica qui la respirazione cellulare avviene e culmina attraverso una catena di trasporto importantissima un po complessa da studiare però il senso qual è è che ci sono una serie di complessi enzimatici che trasferiscono e trasportano elettroni ma non lo fanno fine a se stessi fino all'acettore finale che è l'ossigeno che si traduce e si trasforma in una molecola d'acqua sì il senso qual è il senso è che si crea un gradiente protonico di protoni e questo crea i presupposti per far sì che poi si formi ATP e tutto tutto il potere riducente e questo è il senso come restituiamo il costo viene di nuovo ossidato e rigenerato insomma in NAD o FAD quindi si rigenera tutto quello di cui abbiamo bisogno perché questo processo continui tutto qui tutto questo avviene tramite grazie a quello che viene definito fosforiazione ossidativa che abbiamo capito che è quel processo che serve per produrre ATP a partire dal dall'ADP qui poi tramite queste pompe che grazie al gradiente che si è formato con i protoni fanno sì che funzionino si va a produrre ATP quanto ATP cioè ho rigenerato e raggiunto l'obiettivo il mio il mio i miei trasportatori di elettroni ho prodotto ATP vediamo ragioniamo sulle rese finali sui rapporti e le rese di energia la glicolisi vi ricordate ce ne ha forniti due come netto no quattro ne forniva due ne utilizzava il ciclo di Krebs anche due qui invece abbiamo la produzione di 22 più 6 più 6 quindi abbiamo la produzione totale di 32 34 30 34 36 38 molecole di ATP cioè tutto questo processo è quello che veramente riesce a far sintetizzare tutta questa mole di ATP ok benissimo siamo arrivati alla fine alla conclusione chiaramente ogni passaggio dovrete vederlo analizzarlo per capire come questo avviene ma il senso è abbiamo raggiunto un obiettivo molto superiore cioè il trasporto degli elettroni a una resa in termini di ATP veramente importante a quanto corrisponde in termini energetici bene per ogni molle di glucosio facendo due calcoli ogni molle di glucosio è circa cioè 600 680 si 680 chilocalorie no se noi pensiamo a quanto è una mole di ATP in termini calorici è 7,3 lo sono segnato per non sbagliare con i numeri che produce per 38 moli circa 270 chilocalorie allora se noi facciamo un rapporto purtroppo abbiamo bruciato ossidato il glucosio ma non abbiamo estratto tutta l'energia cioè non è efficiente al cento per cento e questo lo vedete in qualsiasi sistema in qualsiasi sistema che sia umano meccanico eccetera cioè si disperde un po' di energia e qui richiamate alle ai concetti di termodinamica no e la perdita di energia sotto forma di cosa sotto forma di calore cioè c'è un'efficienza che non è massima che in questo caso è circa del 40 per cento il 60 per cento viene viene perso sotto forma di calore e quindi vedete un po' di fare i ragionamenti di quello che è l'utilizzo delle matrici dei substrati e poi la conseguenza di ottenimento di energia netta parziale dovuta anche alla perdita di efficienza allora bloccandoci un attimo iniziamo a fare un po' di ragionamenti e questa parte finale gli ultimi minuti li dedico proprio a voi se avete delle domande e ha dei ragionamenti su su che cosa su come ci si intrecciano i vari i vari aspetti e torniamo ancora a parlare di energia vi chiedo il nostro organismo può fare la fermentazione cioè le nostre cellule possono fare la fermentazione è un'affermazione io vi chiedo se è vera o falsa prego velocissimi la risposta così abbiamo gli ultimi minuti per ragionare insieme vediamo un po' processo di fermentazione l'avrete sicuramente sentito parlare perché ci si producono attraverso la fermentazione gli alcolici questo l'avrete sicuramente presente quindi l'avete sentito in nei sistemi industriali in un certo senso proprio ma io vi chiedo se le nostre cellule riescono a fare fermentazione l'avrete sentito anche legato ad altri organismi viventi e ve li citerò vediamo un po' se noi siamo in grado di fermentare perché quello che abbiamo fatto la fermentazione è un processo esattamente identico dal punto di vista concettuale che serve per ricavare energia no ricavare energia nello stesso modalità noi l'abbiamo fatto nel processo di respirazione attraverso il ciclo di crepes e la catena di trasporto degli elettroni la fermentazione vediamo ecco qua le risposte stanno arrivando il 73 per cento dice che è vero il 23 per cento il 27 per cento dice che è falso quindi molti di voi pensano uno su tre pensa che non sia vero che noi riusciamo a fare la fermentazione invece riusciamo a farla e allora riprendiamo la nostra quando la facciamo avviene quando non c'è presenza di ossigeno voi avrete sentito la fermentazione lattica l'avete sentito parlare per il prodotto che se ne ottiene perché comunemente si dice che quando andate in palestra magari dopo molto tempo che non fate attività fisica il giorno dopo avete dolore muscolare e pensate sia dovuto all'acido lattico in realtà è dovuto a dei micro traumi dei muscoli l'acido lattico però si forma e si si accumula ma si smaltisce meno tempo di quanto di quanto pensiamo e perché riusciamo a fare la fermentazione dove riusciamo a fare la fermentazione nei muscoli l'avete capito l'abbiamo appena detto e anche in delle cellule del nostro corpo che non hanno che non hanno i mitocondri e che non hanno i mitocondri perché non gli servono perché lo scopo è trasportare ossigeno e sono i globuli rossi globuli rossi hanno bisogno di energia immediata non hanno bisogno di trasportarlo non di utilizzarlo l'ossigeno e quindi anche là si fa fermentazione che cosa è il processo di fermentazione il piruvato invece che ci accontentiamo delle sole due molecole di atp che abbiamo prodotto trasformato tutto il processo in piruvato però che cosa deve deve accadere come al solito io devo rigenerare il nad più perché se no mi si blocca e sono sono fregato no qui a rigenerare il nad più io ho questo stratagemma di trasformare il piruvato in in acido lattico e allora a quel punto ho rigenerato in al più poi questo acido lattico chiaramente viene ricattato dal sangue mi si è portato in circolo e riutilizzato come abbiamo visto prima ora ragioniamo un attimo sulla resa energetica per noi è conveniente e obbligatorio in quel momento perché non abbiamo presenza di ossigeno no e quindi è un modo molto più veloce perché la respirazione avviene in molto più tempo qui è un modo velocissimo per ottenere atp la fermentazione avviene nei batteri i batteri anaerobi o anaerobi facoltativi cioè che possono vivere sia in assenza che in presenza di ossigeno no in questo senso perché è conveniente per loro per ragionare in termini di evoluzione perché loro hanno bisogno di energia pronta all'uso pronta all'uso significa produrre tantissimo atp in poco tempo cioè produrre poco atp ma in poco tempo quindi le rese sono veloci per unità di tempo e buttare fuori acido lattico buttare fuori acido lattico batteri e la fermentazione lattica avviene anche nello yogurt ad esempio e infatti si acidifica lo yogurt precipitano le proteine perché cambiano di conformazione l'acidità fa sì che avvenga questo e questo è il processo attraverso il quale ad esempio anche nello yogurt anzi soprattutto nello yogurt succede noi lo facciamo ogni tanto ve l'ho fatto vedere per informarvi assolutamente ma soprattutto per farvi ragionare ancora una volta come le necessità di necessità si fa virtù ho bisogno non ossigeno ho bisogno di questo di atp di energia però devo trovare un modo per riossidare il nad e riutilizzarlo vedete che è un ciclo continuo quindi si ricicla non si butta via è un ciclo continuo ok detto questo ultimi due minuti se avete qualche domanda informazione fatemi chiedetemela tranquillamente io vi faccio un'ultima domanda e con questa poi ci avviamo verso la conclusione quale ormone permette il passaggio del glucosio dal sangue alle cellule abbiamo citato tutti questi aspetti manca un po l'anello di congiunzione glucagone che non è una parolaccia è un ormone insulina che è un ormone cortisolo e somatostatina esistono tutti sono tutti reali prego con la risposta questo va un po verso la conclusione di questo webinar spero che intanto sia stato utile a soprattutto a mettere dei punti fissi nel nella concezione di che cos'è il metabolismo e nell'avere degli strumenti chiari e darvi delle informazioni per capire poi come andare a studiare tutte le varie vie metaboliche che chiaramente richiedono del tempo perché sono strutturate e l'altro aspetto interessante è non limitarci a guardarlo con gli occhi di una serie di cose che devono avvenire ma attraverso quei processi si capisce anche come è l'innesco per diverse patologie e come si possono magari anche risolvere no parlavamo di glucosio pensate a al diabete o parlavamo del dei corpi chetonici parlavamo di vari aspetti che possono creare delle complicanze metaboliche vediamo un po aspetto ancora qualche secondo poi vi lascio perché sono quasi le 12 se vi ripeto se avete delle domande potete farle tranquillamente e intanto vi vado a fare qualche ragionamento ad esempio sul glucosio parlavamo di tutto questo processo intanto appena arriva alla risposta ve la do parlavamo di tutto questo processo di eccola qua 63 per cento di voi insulina e bravissimi 32 per cento di voi glucagone tratti in inganno magari da quello che era il richiamo del nome il 3 per cento di voi cortisolo somatostatina l'uno per il 2 per cento magari non l'avete mai sentito insulina che cos'è è la chiave è la chiave che apre le serrature alle cellule per far passare il glucosio nel sangue il glucosio nel sangue non deve essere troppo presente né troppo poco perché se no si va in ipoglicemia o in iperglicemia l'insulina e questo per darvi un esempio pratico di quanto è importante la biochimica e tutto questo e tutti questi aspetti l'insulina è quella che regola il passaggio del glucosio e se l'insulina ad esempio non c'è per un difetto genetico andrò incontro a una tipologia di diabete che si chiama diabete diciamo se non c'è insulina fin dalla tenera età fin da piccoli si chiama diabete giovanile proprio perché manca l'insulina però quello che può succedere è che anche nel corso degli anni dovuti magari le cause non sono proprio specifiche però i fattori di rischio sì ad esempio l'obesità è un fattore di rischio per il diabete no il diabete che cos'è una patologia che ci mette nella condizione di avere livelli troppo grandi troppo elevati nel nel sangue di glucosio infatti la diagnosi si fa proprio così e nel momento in cui manca l'insulina perché ad esempio si sono rovinati distrutti i siti dove viene prodotta e rilasciata l'insulina che sono le cellule beta delle isole di langerans del pancreas quello che succede che poi non abbiamo la possibilità di far entrare il glucosio nel sangue dobbiamo farla entrare a dobbiamo farla insomma iniettare come come farmaco per fortuna si può fare però devo dosare quanto glucosio mangio e quante unità di insulina devo provi prendere il glucagone è un po l'antagonista detto in modo non troppo chiaro non troppo corretto però è quello che se il glucosio scende troppo come livelli allora si innestano quei processi metabolici che fanno risalire no il glucosio quindi che cosa fa essenzialmente promuove la degradazione della riserva nostra di glucosio che è il glicogeno quindi vedete un po come si bilancia non ho questo anche per regolare il tutto il processo metabolico concludo solo con l'incortisone poi rispondo alle domande che sono arrivate tra l'altro martina ci chiede nel caso di insulina resistenza cosa accade proprio questo problema cioè il problema che non riesco a a far entrare il glucosio nel sangue e quindi devo in un certo modo andare a sopperire questa problematica fornendo insulina nell'organismo e i diabetici lo sanno molto bene lo fanno giornalmente quotidianamente in base anche a quanto glucosio hanno mangiato e alla pasta no Elena ci chiede qualcosa sui dolcificanti quindi vi rispondo subito su queste domande sul cortisolo una cosa interessantissima il cortisolo è il famoso ormone detto dello stress no dello stress che significa immaginatevi un meccanismo come siamo stati concepiti noi siamo stati concepiti per reagire con un aspetto di attacco e fuga cioè o attacchiamo o scappiamo nel momento in cui c'è un nemico pensate alle origini dell'essere umano allora il cortisolo è il famoso ormone dello stress quando siamo sotto stress secondo voi che cosa dobbiamo fare abbiamo bisogno di energia pronta e quindi il cortisolo che cosa fa induce l'aumento del glucosio perché il glucosio ci serve e quindi capite come in base a delle esigenze anche gli ormoni possono guidare in un modo o nell'altro tutto quello che avviene a livello del nostro organismo questo ve l'ho messo finale proprio per darvi un'idea ancora più ampia di quello che è la regolazione dei processi metabolici ivan mi chiede una curiosità mi chiede che università ho fatto ho fatto mi sono laureato a milano laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana quindi è una laurea che ti serve per diventare poi nutrizionista elena ci chiede mi piacerebbe sapere cosa mi pensa dei dolcificanti e mi piacerebbe approfondire il discorso sulle diete allora elena ti dico come mi immagino anche molti di voi e in questo senso vi lascio l'ultima slide proprio mi sembra una conclusione perfetta e ti ringrazio elena per la domanda perché abbiamo affrontato diverse volte il discorso dell'alimentazione lo continueremo a fare anche con voi soprattutto se vi interessa potete trovare un sacco di informazioni sul sito di scuola.air.it abbiamo dei webinar tra l'altro uno fatto sulla dieta mediterranea che potete recuperare su youtube sempre webinar di fondazione AIRC dei dolcificanti cosa penso i dolcificanti essenzialmente servono a sostituire quelli che sono gli zuccheri gli zuccheri che ci servono penso allo zucchero il saccarosio il glucosio il fruttosio e producono un innalzamento della glicemia ma anche chiaramente sono calorici no ogni grammo di glucosio e ci porta 4 chilocalorie il dolcificante che cosa fa? il dolcificante è un po' una scusa per cercare di ovviare a queste problematiche caloriche interagisce con i nostri recettori per darci il senso di dolcezza quindi ha lo stesso scopo ne servono quantità molto meno quindi esistono diverse tipologie di dolcificanti e tendenzialmente l'obiettivo lo raggiungono non ci danno calorie però qual è il problema dei dolcificanti e qui vado a rispondere che cosa penso dei dolcificanti che ci educano comunque a un sapore dolce quindi inevitabilmente lo andiamo a ricercare e quindi potrebbe essere a lungo andare che continuiamo a mangiare troppi dolci e poi oltretutto possono creare delle problematiche a livello dei nostri abitanti dell'intestino che è il microbiota intestinale qui ci sono molti studi a riguardo che stanno cercando di capire chiaramente dipende tutto dalle quantità se io ne prendo un pochino non succede niente ci sono delle dosi massime da non superare e quindi posso farlo tranquillamente però occhio a non considerarli come ok ho preso un dolcifica una cola con il dolcificante o un qualsiasi altra cosa con il dolcificante allora può essere una scusa per mangiare più zuccheri perché tanto lì non li ho presi oppure può essere una scusa per abusare di quegli alimenti con i dolcificanti e sappiamo che se ne mangiamo troppi anche il dolcificante dà un problema poi c'è dolcificante dolcificante allora e poi vediamo che cosa ci chiedono chiede ivan ma cambia se uno fa prima biologia e poi la specializzazione in scienze della nutrizione no assolutamente scusa rispondo a ivan perché è interessato a questa questo argomento e dei percorso di studi e magari molti di voi sono interessati nello specifico alimentazione e nutrizione umana è una laurea magistrale a cui possono accedere varie competenze tra cui il laureato in biologia è perfetto perché sapete queste cose benissimo magari conoscete meno il mondo degli alimenti e questo lo recupererete negli anni successivi e anche altre discipline possono accedere a questo tipo di facoltà quindi sì chi è laureato in biologia è perfetto per fare poi prende una specializzazione in nutrizione allora concludo proprio perché ad esempio Elena ci chiedeva qualcosa su sulle diete e penso che molti di voi hanno hanno interesse a saperlo cosa significa mangiare in modo corretto vi do uno spunto per un invito magari al nuovo webinar su questi argomenti questo è un piatto che rappresenta un pasto un pasto sano prodotto dall'harvard school of public health di boston quindi una delle università più prestigiose del mondo e è l'evoluzione della famosa piramide alimentare che cosa c'è in questo pasto in questo piatto in questo piatto c'è come dovrebbe essere costituito un pranzo una cena e anche in un certo senso una colazione cioè non dovrebbe mai mancare una porzione di carpoidrati da cui otteniamo quel famoso glucosio e significa pasta cereali in chicco pane meglio se nella forma integrale non dovrebbe mai mancare una porzione di proteine e qua ci sono proteine proteine fonti di proteine fonti di proteine le migliori sono no le migliori quelle che dovremmo consumare con più frequenza sono il pesce i legumi ogni tanto le uova due quattro volte a settimana si consiglia e la carne bianca va bene quelle da limitare invece sono le carni rosse queste quindi sono le fonti di proteine le verdure vedete la porzione del piatto rappresenta la quantità che dobbiamo mangiare quindi le verdure sono la parte preponderante che dovrebbe esserci nel nostro pasto non so voi immaginatevi quante ne mangiate le verdure benissimo variandole scegliendo anche in base alla stagionalità chiaramente per che hanno anche un sapore migliore e è corretto seguire quello che accade in natura e la frutta vedete la porzione un pochino più piccola magari un frutto a fine pasto sempre variando nelle tipologie eccetera condimento migliore proprio per i grassi quindi vedete ci sono tutte quelle componenti che abbiamo visto che servono al nostro metabolismo carboidrati proteine grassi i grassi non su tutti non sono tutti uguali perché l'orio extravergine di oliva contiene più quelle tipologie di acidi grassi che abbiamo visto ormai le conoscete perché le abbiamo citate mono insaturi o comunque bene alimenti che sono fonte di grassi insaturi penso anche alle noci alla frutta secca al pesce mentre limitare il consumo di fonti di grassi saturi che sono quelli tipici dei formaggi della carne dei salumi e quindi insomma quello un pochino da limitare ma va in quel senso che vi ho detto della carne da limitarla non eliminarla del tutto bere bere l'acqua ad esempio l'alcol per tornare al nostro metabolismo a un metabolismo che incide sul processo metabolico ad esempio del ciclo di krebs e quindi vedete come anche mangiando e bevendo in un certo senso possiamo e sicuramente aiutiamo lo svolgimento corretto del nostro metabolismo e e questo è quello che vi volevo lasciare come messaggio finale io spero ragazzi e ragazze che vi siate divertiti spero che i docenti abbiano apprezzato insomma il contributo che abbiamo voluto dare il punto di vista sul sul metabolismo per poi chiaramente approfondire tutti questi temi c'è un questionario che che è stato che vi verrà rilanciato appena concluderà il webinar che vi chiedo e vi invito a compilare questionario di gradimento con un po di informazioni così insomma ci possiamo migliorare sempre di più e dare un contributo a voi che sia sempre sempre maggiore e sempre più di qualità che è questa la cosa fondamentale io non resta che salutarvi ringraziarvi tutti per l'attenzione ricordarvi i nostri canali come la mail info-scuola.aric.it il sito internet scuola.aric.it e anche di visitare i nostri social se utilizzate instagram ad esempio abbiamo un canale molto attivo e su youtube ci sono tutti questi webinar registrati insomma e pubblicati su youtube quindi li trovate tutti se li volete recuperare grazie a presto e un saluto a tutti